ciao buonasera a tutti e buon 2021 direi di cominciare questo 2021 con una riflessione su quello che dovremmo attenderci da qui in poi dal 2021 in poi il 2020 probabilmente un anno di svolta il 2021 l'avvio di una nuova fase nel marzo di questo anno il 2020 quando la crisi pandemica era scoppiata anche qui da noi ciò di cui vi parlavo era di una vera e propria svolta di tipo epocale di tipo esistenziale un'economia di guerra la definivo in quella fase in realtà si è dimostrato con qualcosa di ben peggio di un'economia di guerra probabilmente mi capitò anche di scrivere su qualche giornale locale a questo riguardo i lettori avranno potuto intendere come esagerazioni ciò che il termine di economia di guerra può portare alla mente ma da un punto di vista economico in realtà la situazione si è presentata come ben peggiore durante la guerra in ogni caso le attività industriali vanno avanti a meno che non siano bombardate proprio perché vi è bisogno di sostenere quell'economia in quel momento qui invece siamo trovati in un congelamento pressoché totale delle attività nei primi due tre mesi della crisi pandemica in italia e poi il protrarsi di una serie di chiusure e di misure di distanziamento sociale che in qualche maniera frenano la normalità dei processi economici mi sarebbe piaciuto parlare di ciò che avrebbe potuto fare e di ciò che farà il governo italiano in realtà è sempre più sotto gli occhi di tutti il fatto che ci troviamo di fronte a istituzioni democratiche assolutamente impotenti e soggiogate da organismi sovranazionali vedi l'unione europea vedi il fondo monetario internazionale l'organizzazione mondiale della sanità altrettanto le nostre nazioni i nostri governi sono soggiogati dal cosa dal mainstream dall'opinione dal complesso culturale da ciò che i media dicono a loro volta nelle mani della grande finanza e per ultimo ma non perché meno irrilevante sono soggiogati di fatto dalla stessa finanza internazionale la quale controlla il nostro debito la nostra capacità di accedere al mercato dei capitali quindi di fatto ci troviamo a degli stati nazioni assolutamente depotenziati soprattutto qui in europa e quindi è assolutamente inutile parlare del fatto che renzi farà cadere il governo davvero siamo al battage politico diciamo davvero di bassissima lega proprio perché inutile e rappresentativo soltanto di ciò che ormai è la politica un tentativo di diciamo determinare assetti di potere di conquistare poltrone piuttosto che altri spazi ma dove il potere è usato appunto per il potere e niente più non per il bene comune e quindi di cosa vi voglio parlare vi voglio parlare appunto delle prospettive del 2021 parlandovi del grit reset ne abbiamo ve ne ho già parlato in precedenti video però voglio entrare nel dettaglio di ciò che ci dobbiamo attendere sapete da tempo vi parlo di un nuovo ordine di tipo neofuodale verso cui stiamo andando o meglio dentro cui ci troviamo di fatto il sistema economico e qualche maniera sociale quindi democratico è controllato da una ristretta oligarchia finanziaria che controlla media finanza materie prime fonti di energia gli stessi la stessa catena alimentare e distributiva credo che oggi tutto questo sia sotto l'evidenza di tutti e che i nostri governi siano soggiogati proprio diciamo in un'ottica di tipo anche neofascista in che senso di tipo neofascista così come intendeva franklin ruosevelt questo termine cioè ruosevelt diceva quando gli stati si trovano ad essere soggiogati dal potere di privati divenuti talmente forti appunto da poter condizionare le stesse democrazie in essenza quello è fascismo di fronte a questo ci troviamo vediamo anche nell'utilizzo dei social le limitazioni ci sono state a danno dello stesso presidente degli stati uniti d'america questo senza entrare nel merito di ciò che egli dicesse non mi interessa dicesse la verità o che non lo dicesse il punto è che nessun privato gestore di piattaforme di organismi in qualche maniera hanno assurdo al ruolo diciamo a ruoli che ricadono sull'interesse pubblico possono permettersi di fare ciò se fanno ciò i parlamenti immediatamente devono agire per impedire ciò e non coniando concetti vaghi che niente vogliono dire come quello delle fake news spetterà poi cittadini farsi una loro idea in base a un leader che dirà a l'altro leader che dirà b l'altro leader ancora dirà z spetterà ai cittadini appunto il rimettere tutto questo a dei privati ci offre la cifra diciamo del disastro all'interno del quale siamo infilati cosa ci dobbiamo attendere per questo 2021 ma in realtà ce lo stanno dicendo gli oligarchi le elite banchieri per esempio proprio facendo riferimento a quanto teorizzato da claus schwab in questo testo del grit reset il g30 che è un organismo fondato da rockefeller oramai quasi 40 50 anni fa dopo che aveva costituito il gruppo di bellagio che si ritrovava sia bellagio nella località del lago di como si trovava in questa villa serbelloni se non sbaglio il nome casomai ve lo metterò corretto in descrizione ma il nome della villa dovrebbe essere proprio questo si ritrovarono a quel tempo quando appunto fu costituito il gruppo dei 30 nel gruppo di bellagio anche a quel tempo che rappresentava il gota della finanza mondiale mirò ad abbattere gli accordi di breton woods questo sosteneva per una finanza più libera con meno limitazioni e quant'altro il 15 agosto del 71 nixon come tanti di voi sanno a battere gli accordi breton woods che garantirono grazie all'impegno di roosevelt passò per chi si ricorda un po di storia passata passò la linea di white che era l'uomo di roosevelt anche con che si contrapponeva a john mynard keynes per l'impero britannico per la corona britannica quindi un sistema centrato sul dollar exchange standard che seguì quello che prima vi era prima del congelamento della fase bellica che era il gold standard a quel tempo grazie alla visione di roosevelt si decise di superare il limite fisico rappresentato dall'oro altrimenti avrebbe avvantaggiato soltanto in particolare con world e le nazioni più ricche per passare invece un modello differente centrato sempre sull'oro ma attraverso il dollaro questo in qualche maniera dava più libertà anche ai paesi che non avevano riserve aurifere nelle proprie banche centrali passando però per una moneta di riferimento sicuramente gli statuniti volerò tenere in qualche maniera il monopolio del controllo della stabilità economica monetaria internazionale e nixon invece nell'agosto del 71 che fa abbatte in realtà dopo una serie di manovre già gli inglesi e francesi stessi ma in particolare gli inglesi compirono a inizio degli anni 60 però nel 71 nixon dice signori chi ha dollari qualunque stato abbia dollari non può presentarsi a fort nox a dirci convertiteci lì in oro perché questo non avverrà più una decisione unilaterale ma che cosa ha voluto rappresentare ha voluto rappresentare una dollarizzazione eccessiva questo abbiamo avuto la decisione di nixon che in realtà era perorata dal gota della finanza mondiale ripeto per esempio dal gruppo di bellagio e quindi dalla stessa dinastia rockefelle dai principali banchieri del mondo questa decisione di fatto ha comportato la dollarizzazione dell'economia mondiale ma a parte come dire l'eco che può risuonare grazie a questo termine in sostanza cosa ha voluto dire questo ha voluto dire svincolare la finanza da un valore di riferimento reale e quindi avviare favorire processi speculativi a tutto danno di quelli produttivi dell'economia fisica dell'economia reale per questo per esempio il compianto l'indola ruscia battuto per una vita per almeno 50 anni sulla necessità di ripristinare un nuovo ordine monetario finanziario internazionale una nuova breton woods diceva lui centrata su un paniere di monete che rappresentassero l'economia fisica delle più importanti nazioni del pianeta tutto questo ovviamente non si è mai realizzato altrimenti non saremmo neanche qui a parlare probabilmente di crisi oggi di crisi pandemica perché nel frattempo gli stati avrebbero avuto la lungimiranza le leadership politiche avrebbero avuto la morale per presentare per avere piani pandemici per investire nella economia fisica che un piano pandemico va a includere invece per esempio nel caso italiano se ne è parlato a dire vero molto poco sui giornali ma un po lo scandalo è venuto fuori dal report da altre fonti di informazioni invece avere un piano pandemico risalente a dieci anni fa ora il gruppo dei 30 riunitosi di recente di cui ha avuto una certa eco per esempio le parole per cui hanno avuto una certa eco le parole di mario draghi il quale dice attenzione finora vi era una crisi di liquidità adesso rischiamo di avere una crisi di solvibilità insolvenze in realtà draghi segue scusate ma concetti sono tantissimi e per la testa me ne stanno balenando duemila sono tutti catenati l'uno con l'altro per cui il rischio anche di essere un po caotico nella ricostruzione spero mi possiate però seguire in realtà mario draghi fa a sua volta eco alle analisi alle ai richiami agli ammonimenti che finanzieri i finanzieri principi della finanza americana in questo momento stanno dando quasi ci volessero donare come dire noi ve l'avevamo detto fate voi c'è cosa ci stanno dicendo warren buffett ray dalio chas munger charlie munger cosa ci stanno dicendo ci stanno dicendo che loro si attendono per questo 2021 una crisi finanziaria di portata epocale ray dalio dice vivremo ciò che nel 29 vivemmo rivedendo i massimi del 29 solo dopo 20 anni massimi sui mercati mercati borsistici ora non c'è bisogno di essere ray dalio per capire qualcosa non va sui mercati finanziari abbiamo le borse mondiali in particolare quelle occidentali quelle transatlantiche quella americana in primis sui massimi storici con disoccupazione di massa con pil a meno 10 meno 15 poi vedremo a quanto arriveranno poi a fine ora a breve avremo i primi dati siccome si è concluso il 2020 dal punto di vista del prodotto interno lordo delle singole nazioni ecco nonostante questo abbiamo gli indici che sovraperformano che sono sul record storico mai registrato sì il dow jones l'S&P 500 principali indici americani in particolare ma anche il dax quello che rischiamo appunto ray dalio dice tensione a stare sui mercati finanziari puntate più sulle materie prime puntate più sull'oro perché come dicano nei borsini anche qua dicevano un tempo nei borsini qua cosparsi prima che arrivasse l'on banking il trading online cosparsi un po qui per la città di firenze ci stanno togliendo la seggiola da sotto il sedere sinceramente io non sono esperto di finanza mi limito a riportarvi ciò che vi dicono per capirsi chi non conoscesse Ray Dalio Ray Dalio è il fondatore del principale hedge fund del mondo cioè il principale fondo di investimento del mondo bleach water warren non credo ci sia bisogno di dirvi chi sia coca cola gilette e così via sempre stato tra la prima e la seconda posizione in quanto riguarda le personalità più ricche degli stati uniti d'america Charlie Munger è una figura similare un ometto di 96 anni insomma quando parlano di borsa bisogna ascoltarli con attenzione quindi per gli amici diciamo che chi ha qualche soldo in borsa con posizioni lunghe rialziste state attenti perché non io queste figure di un certo spessore che vivono da una vita di investimenti di operazioni di investimento o speculative definitele come vi pare insomma stanno dicendo questo però adesso il gruppo dei 30 cosa ci sta dicendo a parte questi ammonimenti dobbiamo prenderli quasi come dei regali che ci fanno questi finanziari di primissimo livello il gruppo dei 30 ci sta dicendo anche un'altra cosa se fino ad oggi gli stati si sono dovuti impegnare a mantenere i posti di lavoro durante questa crisi pandemia quindi a impedire i licenziamenti a sostenere in Italia in realtà questo non è avvenuto è una presa di giro dire questo però penso alla Germania penso ai Stati Uniti penso all'Inghilterra la Francia a sostenere il tessuto produttivo la piccola e media e grande imprenditoria quindi con veri e propri non ristori ma proprio con finanziamenti a fondo perduto liquidità a fondo perduto ripeto non in Italia in Italia abbiamo visto roba ridicola volta vabbè lasciamo fare qui c'è proprio un problema di etica pubblica nella classe dirigente e di passività oramai della cittadinanza italiana perché altrimenti non si spiega dovremmo essere anch'io invece fare qui questi video all'interno del mio taxi per fare 20 euro a notte dovremmo essere per le piazze a far casino a richiamare alle loro responsabilità uno Stato che imbrigliato com'è nei vincoli nel vincolo esterno dato dal dallo stesso eurosistema dalla BCE invece dovrebbe avere come dire un senso d'orgoglio di amore per la nazione e proprio la cittadinanza dicendo andate per favore a quel paese come ha detto anche di recente Nino Galloni ora io non sono nessuno però è da marzo che lo dico no abbiamo bisogno di stampare una moneta parallela per sostenere l'economia italiana metterla in circolo e sostenere i consumi interni altrimenti viene giù tutto e suppongo che in questo 2021 verrà giù tanta roba lo supponevo lo suppongo ma adesso ne ho conferma perché lo dice il G30 il G30 dice agli stati nazione ai governi dovete a questo punto ora vi leggo questo passaggio perché è davvero emblematico direi quasi imbarazzante per il cinismo allora intanto nel rapporto del G30 appunto ottenutosi non molti giorni fa si usa per ben sei volte ci dice lo strategic alert l'edizione italiana dell'intelligence dell'executive intelligence review il numero 52 ci dice cita ben sei volte il concetto di Schumpeter della distruzione creativa questo concetto che ha studiato un po di economia di filosofia ne avrà qualche reminescenza di studio però ci dice questo rapporto parla di nuova economia ovviamente centrandola e poi parleremo anche di questo perché questo è il detonatore centrandola sulla questione del carbon free della decarbonizzazione quindi dell'allarmismo climatico di cui non si parla più no quest'anno non c'è mai stato modo di parlarne ma ricorderete il 2019 con Greta il gretinismo ricordo sempre Greta una vittima inconsapevole una bambina in 16 anni non può essere che tale e non certo la mente ma è utilizzata sfruttata in modo immorale da un ristretto gruppo di oligarchi che utilizzano Greta per portare avanti e quindi per utilizzando appunto una bambina così giovane per andare a colpire l'intimo delle persone sono già operazioni e fecero per esempio ne abbiamo parlato ve ne ho parlato in video di molti mesi fa utilizzarono per esempio per giustificare la prima guerra del golfo quando utilizzarono quella bambina che doveva essere kuwaitiana se non erro e che poi invece risulta essere la figlia di un funzionario delle nazioni unite adesso ho un vago ricordo però semmai vi rilinco il video di cui vi parlai di questa cosa ma per farvi capire le frodi che anche possono portare avanti a questo riguardo senza alcun pudore poi tanto una volta conquistato l'obiettivo ok si finisce la notizia su new york times vabbè se ne parla mezz'ora e poi finisce tutto lì ma intanto l'invasione dell'irac il bombardamento per l'occupazione quel paese la facciamo e come dire il l'obiettivo l'abbiamo portato a casa allora dice il rapporto di g30 comportamento verso i fallimenti di imprese e occupazione i decisori politici che lo dicono loro agli stati cosa devono fare ma siamo a questo sui serio penso ormai non ve ne sia più dubbio da parte di nessuno a parte ogni tanto qualche anima bella no che che finisce alla rivalta del palcoscenio politico ma poi viene fatta fuori dal dai tiri incrociati da inchieste giudiziarie da la dai media mainstream che bombardano comunque a parte questo quindi di fatto ti impediscono di governare quindi il comportamento verso i fallimenti di imprese disoccupazione sentite cosa devono fare i decisori politici modificheranno gli viene detto i criteri con cui preservavano lo status quo e posti di lavoro esistenti per permetterlo incoraggiare il processo di distruzione creativa in cui le imprese falliscono permettendo ai posti di lavoro e alle risorse di emigrare dalle imprese infruttuose a quelle meglio adatte alla nuova economia i miei amici tassisti tremino tremino allora io stesso non ci serve a niente temare però è bene avere consapevolezza è bene parlare di questi concetti e per questo io ve lo dico sempre faccio questi video per una coscienza civica che voglio avere in piazza siamo troppo unvolghesiti non ci andiamo più a spaccare ogni cosa bisogna avere fame e ancora fame non l'abbiamo abbastanza per arrivare a fare quello e non è alla fin fine ci dice il don giovanni di mozart e ci dice la storia no la soluzione il buon senso la la decisione giusta quella però credo sia utile invece far circolare concetti e come dire evangelizzare permettetemi questo termine amici conoscenti le persone con cui ci imbattiamo di modo che tutti si possa avere sempre più progressivamente consapevolezza di ciò che abbiamo davanti per impedire che sia normalizzato tutto ciò che abbiamo davanti stiamo vivendo in un ordine tipo neo feudale dove pochi oligarchi pochi privati ricchissimi controllano tutto e questo non è possibile se vogliamo davvero avere delle democrazie ci dicono anche figure odierne che per avere una vera democrazia dobbiamo avere una classe media forte perché vuol dire avere persone pronte a partecipare alla cosa comune all'attività politica e non gente costretta a lavorare 12 13 18 ore di giorno e portare la pagnotta a casa e quindi non ha il tempo poi per poter in qualche maniera incidere partecipare al dibattito politico questo ci dicono dal g30 e quindi si deve cominciare ad avere davvero paura io voglio dire anche qualche altra cosa a questo riguardo stanno nascendo una serie di think tank di questi pensatoi uno in particolare ha destato la mia la mia attenzione ed è il council for the inclusive capitalism perché we with vatican con il vaticano perché ha destato la mia attenzione perché qui papa francesco si è messo in combricola fatemi usare questo termine sicuramente poco rispettoso per il santo padre ma in questo think tank dove partecipano queste società ora vi voglio vi voglio dire le società che vi partecipano perché allora si è messo non insieme ad altri stati a organismi sovrani a stati in azione per creare diciamo un pensatoio che in qualche maniera possa portare avanti certe linee diciamo di sanità pubblica sanità in senso lato ma si è messo con alliance bank of america british petroleum brunello cuscinelli brunello cuscinelli fra l'altro gode anche di una certa mia simpatia lasciamo fare per vari motivi anche diciamo di carattere familiare ma calpers bank in financial services du font materials estel order quella del beauty poi c'è la ford foundation rockefeller foundation no vi citano soltanto quelli che conoscete più la johnson and johnson mastercard visa merckx c'è un organismo pubblico l'office of the california state treasury scusate la pronuncia non perfettissima sales force state street banks and financial services insurance ti e e allora il santo padre si mette in organizzazione fa prestare diciamo la 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 l'autorevolezza morale del vaticano per entrare in un affare di questo genere dove ci sono i cosiddetti guardiani o meglio i tutori detto in italiano the guardians sarebbero questi qui se andiamo sul sito che è un punto com non è un punto org fra l'altro un punto com vabbè ma non è questo e tra i guardians chi c'è c'è il presidente della mastercard e così via ma a parte i nomi c'è anche la signora bionda perché se cercate le foto di questo council vi ripeto il nome for inclusive capitalism with the vatican c'è anche la signora lynn forester de rothschild che insieme al santo padre si fanno tutti la foto insieme ma e quale quale quando il perché parlo di inclusive capitalism in realtà è tutto centrato sul nuovo mantra della decarbonizzazione sapete che con la enciclica l'ho dato sì il santo padre ha convertito la teologia cristiana che mai ha riconosciuto mai la tesi del global warming antropogenico quindi del riscaldamento globale per azione antropica per azione umana come meritevole diavallo non hanno mai sposato questa tesi scientifica che è soltanto una tesi messa in discussione come ho detto tante volte in precedenti video perché ho battuto tantissime volte su questa questione dell'ambientalismo perché ora penso che tanti amici che hanno sensibilità ambientali forti ma ce l'ho anch'io ce l'ho anch'io una sensibilità ambientale ma che non può andare a discapito della centralità della figura umana non ci può essere questa dicotomia come stanno insegnando a casa scuola e lo vedo la mia bambina è ma un conto è la natura un conto è l'uomo ma l'uomo è oggetto del creato e per questo è bene parlare di creato più che di natura non è un marziano arrivato via a parassitare tutto è l'espressione più alta ci dicono i testi millenari di filosofia tra cui la bibbia ok che fino a prova contraria le allegorie bibliche sono appunto allegorie per esprimere concetti filosofici finissimi filosofici scientifici finissimi plurimillenari che nella grande scala gerarchica ce lo diceva anche gandhi in cima a grande scala gerarchica senza disconoscere la centralità della vita di alcun organismo vivente via l'uomo il quale ha la capacità di prendersi cura di tutto il creato di poterlo migliorare e ovviamente però ci viene anche detto dominatelo perché c'è in qualche maniera bisogno dominatelo nel senso di controllatelo no non nel senso diciamo negativo e depotenziato del termine ma domina quando è che una materia la si domina in questo senso qui quando la materia domini quindi nella nella la rendi la controlli la conosci la rendi creativa no perché la domini vabbè la questione ambientale è ciò su cui in particolare della decarbonizzazione per il passaggio infatti qui vi è anche chi mark carney l'ex capo della banca d'inghilterra che vi ricorderete ne parlai anche a lady radio ve l'ho detto già qui più volte su questi video già ai tempi diciamo della bomba mediatica greta parlò durante un summit di come le 130 banche principali al mondo fossero pronte a convertire tutta la diciamo il finanziato che passava dall'economia che è centrato sull'economia a combustione farlo passare su quello su quella invece delle delle energie alternative eolico e fotovoltaico non mi stancherò ma dire di ve lo ve lo dico ogni video non c'è una densità di flusso energetico tale per mantenere la popolazione mondiale cioè la visione di questi signori è in qualche maniera dobbiamo buttare un po di passeggeri giù dalla nave buttarli a mollo buttarli in acqua perché il pianeta così com'è non regge questo c'è un problema fautori di questo tipo di tesi ce l'abbiamo dal 1799 con thomas rupert maltus quando eravamo 500 milioni non 7 miliardi e mezzo 500 milioni già allora il reverendo anglicano maltus diceva nel suo saggio sui principi della popolazione la popolazione umana non può reggere siamo 500 milioni siamo troppi la crescita alimentare è di tipo aritmetico la crescita della popolazione è di tipo invece esponenziale e quindi non possono bastare risorse poi l'uomo cosa dimostra di poter fare di scoprire la chimica di poter migliorare le condizioni di vita della popolazione e quant'altro e quindi scoperte scientifiche sempre maggior capacità efficientamento nello sfruttamento delle risorse che che se ne dica perché prima bruciavamo la legna e poi siamo passati a delle fonti sempre più sofisticate il petrolio e oggi in realtà dovrebbe essere il nucleare e per fortuna qualcuno si sta ravvedendo all'interno della stessa unione europea di recente è passato un atto proprio internamente all'unione europea che dice sì per la decarbonizzazione continuano con questa boiata poi vi spiego anche perché sia una boiata va bene via carbone via il petrolio però non sostituiamolo solo con i pannelli solari e l'eolico che altrimenti altro che covid altro che covid la vera strage la facciamo noi la induciamo noi con queste scelte folli bisogna qualche maniera sostenere anche il nucleare purtroppo non lo si fa nella nelle nazioni del primo mondo occidentale in particolare la germana stessa rischia di abbandonare completamente la politica energetica nuclearista ma lo si fanno nelle nazioni in via di sviluppo in particolare la cina ma anche nelle nazioni dell'est europa penso per esempio alla stessa polonia e lì sta dicendo signori o l'indipendenza energetica l'indipendenza economica delle nostre nazioni possiamo averla non mettendo pannelli soli da tutte le parti perché con quella puoi mantenere la il radio taxi del 43 90 come hanno fatto i tassisti anche qui a firenze lì c'è semplicemente da alzare la cornetta rispondere a dei telefoni c'è ad accendere le luci e da mandare dei computer quando te hai una raffineria quando hai da produrre macchine utensili hanno bisogno di una densità di flusso energetico molto elevata pensiamo a fare alle missioni spaziali per poter per esempio andare sulla luna prendere l'elio 3 e con un carico di quelli sostenere il fabbisogno energetico della del genere umano per un anno come ci vai sulla luna il pannello fotovoltaico con l'eolico c'è bisogno di processi di fissione nucleare e hai bisogno di arrivare alla fusione nucleare su cui devi investire allora tutte queste questioni purtroppo passano da una visione piuttosto folle delle nostre classi dirigenti che vogliono passare dalla digitalizzazione l'avete visto no anche il dove vogliono distribuire questi 200 circa miliardi arriveranno in un decennio circa fra l'altro da parte del recovery plan qui in italia digitalizzazione e conversione green conversione green in particolare il grosso va tutto lì poi sulla sanità ha ragione renzi quando dice ci hanno messo 9 miliardi sono sono matti allora digitalizzazione quindi automatizzare tutti i processi ora l'automatizzazione è una cosa verso cui dobbiamo andare però riconoscendo cosa un reddito universale a cittadini che è un reddito in realtà di elemosina come vogliono i teorici del grid reset oppure 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 tassando ma non il barista vedete quando si parla di evasione il cashless tutte queste scusate ci metterò un b a questo termine se mi riesce a fare il b con con il programma di video montaggio ma non con l'evasione del barista del tassista del ristoratore vedete non ci parlano della di paradisi fiscali di società offshore di trust di questo non ci parlano non ce ne parlano allora di web tax quelle cifre ridico le coefficienti ridicoli del 3 per cento li sventrano anche come grandi conquiste allora se vuoi digitalizzare tutto a questi devi mettere una tassazione tale tale da consentire che io che ho perso il lavoro poi possa continuare se vuoi avere una società creativa questo ci sta dicendo queste ultime ore ega zeppela rush nel suo discorso per il 2021 riprendendo concetti cari a schiller alle lettere sull'educazione estetica di schiller dobbiamo investire sulla creatività umana bene per avere se io faccio perdere con tutti i processi automatizzati i posti lavoro all'operaio al negoziante perché avremo soltanto grandi magazzini amazon o acquisti tutti automatizzati in toto ce n'è già uno a milano lo potranno confermare gli amici milanesi oppure tutti gli acquisti da casa questa roba non la puoi bloccare deve esserci il punto qual è che il decisore politico proprio perché deve pensare al bene comune deve pensare avere gente libera deve pensare avere popolazioni che stanno bene da un punto di vista economico da un punto di vista culturale morale e spirituale questo questa visione integrale della persona umana abbiamo a avere che che devono fare i paradisi fiscali via non ci devono non possono esserci in una società nel 2020 una società che voglio definirsi civile i paradisi fiscali devono essere messi al bando bene la tassazione sulle sui big 6 dell'indice s&p 500 quindi alfabet google facebook apple microsoft netflix amazon ovviamente la tassazione su questi soggetti deve essere si dice che oggi la tassazione sulla piccola impresa italiana arriva tra diretto e indiretto come tassazione arriva un 70 per cento ecco deve essere di queste di questa portata di questa portata deve essere perché quella tassazione lì poi serve per mantenere lo stato sociale nella sua complessità la sanità gratuita il dentista come c'è in 38 adice gratuito o come c'è in austria no nelle nazioni ancora che in qualche maniera mantengono un po di stato sociale una scuola gratuita efficiente gratuita un reddito di cittadinanza che consenta non di far la spesa un reddito universale che consenta a quel punto non di far la spesa ma a quel babbo a quella mamma di poter far studiare il pianoforte alla figlia di poter anche pagarsi una vacanza perché no allora se dobbiamo andare verso una società digitalizzata della complessiva automazione dobbiamo riscoprire quella che era l'idea dei grandi umanisti penso a Tommaso Moro nella sua utopia ma penso anche a Gottfried Leibniz quando ci parla in questo scritto in Societas Filadelfica di una società delle arti e della scienza dove gli uomini si occupano di questo di arte e di scienza vedete nessuno più dopo emigra perché non ti fanno non c'è modo di fare ricerca di fare ricerche scientifiche tra i tanti nostri elementi eccellenti che vengono fuori dalle nostre università quindi l'uomo nella prospettiva finale di questo Eden in qualche maniera dovrà occuparsi di questo il bello è che oggi avremo le possibilità tecniche per realizzare questo e invece cosa succede? facciamo concentrare tutta la ricchezza mondiale in mano a chi controlla le tecnologie a chi controlla la finanza a chi controlla i generi alimentari a chi controlla le materie prime e poi lasciamo gran parte della società in uno stato di abbrutimento con il minimo indispensabile tanto per mangiare e per non rompere i c***i andando in piazza a far casino a questo invece di investire su tutti e 7 miliardi e mezzo di individui almeno occidentali noi non siamo quelli bravi, noi buoni contro le dittature che facciamo le guerre umanitarie contro gli altri paesi che non riconoscono i diritti civili almeno noi almeno noi portiamo avanti un cammino di questo genere siamo i bravi noi quegli altri sono tutti brutti e cattivi non sapono più nulla della scena dopo il bum 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 il martellamento mediatico quando avevano il covid poi non ci hanno più detto nulla appena hanno scoperto il vaccino non ci hanno vaccinato la loro popolazione non ci hanno detto più niente ogni tanto ce ne riparlano o è riscoppiato è un focolaio di qui un focolaio di là lo isolano 30 secondi perché quelli sono regimi quindi in qualche maniera è tutto più facile la gestione sociale che la società in qualche maniera è militarizzata ma lo è sempre meno ed è sempre meno regime noi siamo democrazia sempre meno democrazia beh quindi questo è lo scenario che abbiamo davanti difficoltà economiche posti di lavoro persi ma grandi prospettive grandi prospettive se le classi dirigenti facessero ciò che sono chiamate a fare dalla popolazione per innalzarne quella scintilla divina di cui tutti noi siamo dotati che è la creatività e con cui possiamo partecipare come atto d'amore verso la società proprio manifestando questa nostra creatività è evidente se non ho di che mangiare ho difficoltà ad arrivare a fine mese non mi fai studiare come devo studiare mi fai sempre più concentrare la ricchezza invece di distribuirla in un'ampia sempre più tutta la popolazione in pochissime mani è evidente che questo 2021 sarà un disastro e ciò che ci attende sarà altrettanto un disastro poi i popoli si incavoleranno scopperanno i casini tra le nazioni scusate la lunghezza davvero di questo audio però di questo video però i concetti insomma credo non vi siate annoiati i concetti erano tanti e non sono partito non mi so più fermato volevo fare un 10 minuti di video a dirvi per dirvi cosa vedo per questo 2021 credo avervelo detto non vi rubo altro tempo se vi è piaciuto il video mettete un mi piace mettete commentate magari dite quello e non vi torna o che vi torna e quant'altro provo a rispondervi mettete seguitemi sul canale condividete vi ringrazio vi auguro di nuovo buon anno state bene a presto ciao a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti